L'inchiesta strade al veleno che ha portato all'apertura delle indagini su presunte sostanze nocive al di sopra delle soglie di legge trovate nei materiali utilizzati per asfaltare piazze e strade di oltre 21 comuni nel Bolognese è arrivata anche sul tavolo della giunta del comune di Imola che ha deciso di costituirsi parte civile all'interno del processo al Tribunale di Venezia. Il conglomerato venduto ai comuni infatti non sarebbe stato sottoposto alla decontaminazione prevista per legge. La direzione di Satuale Antimafia di Venezia ha aperto questa inchiesta che ci vede coinvolti anche per quanto riguarda alcuni lavori sul comune di Imola. Abbiamo inteso costituirci parte civile in quanto riteniamo importante verificare all'interno del processo le condotte dei singoli attori coinvolti in modo da poter chiarire le posizioni e se vi sono stati degli inquinamenti e in quale misura. Agli anni vanno dal 2014 al 2016 i lavori effettuati non sono molti e nemmeno di grandi entità. Si tratta di quattro lavori dove i materiali sono stati usati in massima parte per riempimento. Qualora venissero riscontrati davvero sostanze nocive in quantità presenti sopra la norma di legge e pertanto si andasse avanti nel procedimento che cosa accadrebbe per il comune di Imola? Sicuramente la cosa più importante è la salute dei cittadini e quindi si deve arrivare alla bonifica di quanto utilizzato e quindi anche di quanto eventualmente resta inquinato nei terreni. Una volta fatta la bonifica si andrà a verificare se ci sono delle ipotesi risarcitorie.